Dicono no alla distrutturazione del settore, così i lavoratori e le lavoratrici dei servizi ambientali si sono dati appuntamenti in un sit-in davanti alla prefettura dell'Aquila aderendo allo sciopero nazionale proclamato dai sindacati FP, CGL, FIT, CISL e Wiltrasporti. Ciò che chiedono è una correzione immediata dell'articolo 177 del codice degli appalti che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l'80% di tutte le attività, anche nei casi in cui le stesse vengono svolte direttamente dal proprio personale, azzerando di fatto un servizio essenziale per le comunità locali che hanno già scelto nel 2011 la gestione pubblica di questi servizi. Una norma che per i sindacati incide sui costi economici, obbligando le aziende a spezzettare il servizio rapidamente con gare a ribasso e mettendo a rischio di fatto migliaia di posti di lavoro in un comparto che invece negli anni ha visto crescere i soggetti industriali capaci e professionalità importanti, un settore inoltre che ha forte rischio di infiltrazioni malavitose e che aumenterebbe con la frantumazione dei servizi, secondo le organizzazioni sindacali. Al governo si chiede di intervenire per evitare una privatizzazione selvaggia e si chiede anche ai parlamentari abruzzesi di aprire un tavolo di confronto. In Abruzzo gli addetti al servizio dell'igiene urbana si possono stimare in circa quasi 2000 addetti. Questo provocherebbe quindi l'esternalizzazione di questi servizi, la destrutturizzazione del settore e la frammentazione dei servizi che andrebbero poi comunque smistati in vari rivoli in aziende diverse da quelle del settore. Noi riteniamo che il governo debba ritornare sui passi perché è l'unica normativa, non sta a livello comunitario ma solo in Italia, in Europa una normativa del genere non c'è. Questo va anche a discapito del cittadino, oltre all'occupazione va a discapito del cittadino perché invece di fare che il pubblico innalza il servizio dato, con questa norma si va solamente a dare alle aziende oggi di esternalizzare questi servizi a minor costo con peggior servizi. Noi siamo in prima linea con le altre sigle sindacali per difendere i diritti ma soprattutto per evitare che ci sia uno smantellamento che piano piano non porterà nulla secondo noi e quindi siamo solidari in tutte e tre le sigle per combattere questa cosa che riteniamo non giusta.